Addisse Baba, favole e fiabe della buonanotte Raperonzolo C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Ne sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti. La magia del male regnerà sempre sul mondo intero! Non lontano dalla casa della strega, viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse Presto avremo un figlio! Ma, purtroppo, la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna. Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei. L'uomo allora si fece coraggio. Si diresse al castello della strega e arrivato là bussò alla porta. Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere. Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi. Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi? Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e, se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio. Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo. Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi. La strega diede all'uomo l'erba medicinale. Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà. Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male. Ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi. Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio. Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina dovrai portarmela e sarà mia. Non posso accettare una proposta del genere. Allora arrangiati! La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente diede alla luce la creatura che portava in grembo perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile. È una bambina meravigliosa! In quello stesso giorno al palazzo reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino. Il re era molto felice perché aveva finalmente un'erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti di lì a poco la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime. Oh, mia piccolina! Adesso è mia! Ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei! Il suo nome sarà... Raperonzolo! La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla. Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina! La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni. La bambina era cresciuta diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli! Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori dalla finestra e questi arrivarono quasi a toccare terra. Mmm, fantastico! La strega salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi. Nessun incantesimo al mondo! Nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre! Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno e la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava. Raperonzolo, Raperonzolo, è arrivata la mamma! Buttami i capelli! Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli e la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra. Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui? Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo! Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine, il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore, finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse «Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia». «Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata!» «Dicono che chi ci entra non esce più!» «Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona!» Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo e dopo un po' si sentì una voce cantare. Che voce meravigliosa! Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo. «Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli!» Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre. «Allora si chiama Raperonzolo!» Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva. «Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli!» Finalmente, il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse. Si avvicinò alla torre e chiamò. «Raperonzolo! Raperonzolo!» «Raperonzolo!» Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando. «Chi sei? E come mai conosci il mio nome?» «Sono il principe di questo regno! Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti!» «Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!» «Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto! Per favore, scendi e parliamo un momento!» «Non posso! Qui non ci sono le scale!» Proprio in quel momento, Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando. «Presto! Allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!» Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male. Quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Raperonzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto. «Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?» «Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.» «Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.» Raperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Raperonzolo erano già fuori lungo la torre. «Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi!» Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Raperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata. Raperonzolo tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe. Raperonzolo! Raperonzolo! Come? Come hai potuto tradirmi? Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo e il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai. «Padre mio, ti trovo benissimo! Cosa è successo?» «Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria! Aspetta, fammi ricordare come si chiama! Ah sì, Raperonzolo!» «Raperonzolo?» Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Raperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Raperonzolo, la bambina che l'era stata portata via. «Figlia mia, figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!» La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo il principe e Raperonzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti i suoi trucchi malvagi. La rua la mia, figlia mia, sei tu!